Devo dire la verità, sono contento e sono contento per un motivo, e cioè che questa notizia legata a Paul Pogba, quell'intervista che ha lasciato il seguente commento, ha scatenato tante opinioni, ma le opinioni scatenate sono quasi tutte differenti. Io ho notato una tifoseria letteralmente spaccata in questo momento su Paul Pogba. C'è chi pensa che abbia finito, abbia terminato, non abbia più nulla da dare alla Juventus e forse anche al calcio ad alti livelli. C'è chi pensa che sia un giocatore ancora recuperabilissimo, un giocatore forte, un giocatore che in Serie A fa la differenza. Partiamo da un presupposto che io ho già detto la mia nel video di ieri sera, e quindi dato che ci sono state tante campagne differenti, voglio rispondere a quelle che sono state le opinioni che sono state poi inserite all'interno nel dibattito per dirmi, sì Luca ok d'accordo, però questo, però quello, però quell'altro. Attenzione, io non ho assolutamente discusso Pogba dal punto di vista tecnico, perché tanti mi hanno scritto, sì però Pogba anche oggi è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Io credo che Pogba sia un mostro, un mostro in senso buono ovviamente dal punto di vista tecnico, ma mica solo per la Serie A, probabilmente per quello che è il calcio in generale, ad alti livelli anche in Europa, in generale in Europa. Tecnicamente Pogba è un mostro e questa cosa non la cambiano gli infortuni, non la cambiano questi anni lontani dal campo da gioco, non la cambia la squalifica, Pogba era, è e rimarrà sempre un mostro. Veramente una persona che per natura ha ottenuto un privilegio importantissimo. A questo però si sommava una straripanza fisica e ovviamente quando il corpo non è più in grado di darti quello che ti dava prima con continuità e al 100%, ecco che dal punto di vista fisico le prestazioni vanno a calare, ma tecnicamente Pogba, sono d'accordo, anzi probabilmente tecnicamente è uno dei primi cinque giocatori della Serie A, senza ombra di dubbio, ma non basta solo questo. Per essere un calciatore completo serve il pacchetto generale, non soltanto due o tre cose. Ma questo è soltanto uno dei primi punti, ma concordo con voi, tecnicamente Pogba è micidiale, su questo non ci piove, non dobbiamo discuterne, sono 100% d'accordo. Io su Pogba sono stato già troppo deluso, per questo vi dico non ci casco più. Non è un volerlo bocciare perché mi sta antipatico, no, semplicemente, anzi, tutt'altro. Tant'è che io ho comprato la maglia di Pogba al suo ritorno, al suo Pogback, ora si parla di questo Pogback back, anche se non ero d'accordo sul dargli la 10, poi il mio bambino interiore, il mio fan interiore è andato a dire, senti, sai cosa c'è? La 10 di Paul, la prendiamo lo stesso. E quindi, no, non mi sta antipatico Paul, tutt'altro, è come dicevo ieri, è come era il titolo della miniatura, lo dico da fan di Pogba, perché quello che è stato Pogba non me lo toglierà più nessuno. Qualcuno mi diceva, sì però non vedo perché non utilizzarlo se è disposto a tagliarsi lo stipendio almeno da qui a giugno. Allora, questa è invece una risposta molto interessante, perché ovviamente quello di ieri era un video in cui gli spiegavo la mia posizione e per me la Juventus dovrebbe interrompere il contratto con Paul Pogba. Questa è la mia lettura, a seguito di tante cose che ho già spiegato nel contenuto di ieri. Condivisibili e non condivisibili sono la mia idea. Se la Juventus deciderà di utilizzare nuovamente Pogba, reintegrarlo in Rosa, farlo allenare, metterlo a disposizione di Tiago Motta, io sarò il primo supporter di Pogba. Però la mia idea rimane la stessa per me. Pogba con la Juventus ha completato quello che è il suo percorso. Poi non è che se Pogba invece con la Juventus gioca ancora dico no, allora non la guardo più e mi metto a fare come i bambini. No, io non lo volevo così. Certo che no, ovviamente, ma la mia posizione è quella lì. Quindi se Pogba scenderà nuovamente in campo con la maglia della Juve, forza Paul, saremo tutti con te a sostenerti. Cosa che credo che non accadrà, perché immagino che la Juventus arriverà al punto di interrompere il rapporto con Pogba. Ieri qualcuno mi diceva appunto se si taglia l'ingaggio e Pogba stesso ha detto rinuncerei a dei soldi per la Juve. Però Pogba ha detto rinuncerei a dei soldi per la Juve. Perché io ho letto commenti che assolutamente sono condivisibilissimi però di persone che mi dice ma Pogba ha uno o due milioni, io me lo tengo. Certo ci mancherebbe altro. Però rispondo con una domanda e so che non si deve fare. So che non si rispondono le domande con delle altre domande. Ma secondo voi Pogba un ingaggio da uno o due milioni lo accetta? Cioè perché Pogba in questo momento, terminata la squalifica, avrà la possibilità di avere un mercato in caso di recessione del contratto con la Juventus e sicuramente non riuscirà a conquistare contratti da 8, 9, 10 milioni rimanendo in Europa. Perché se vai in altre parti del mondo, in altri campionati che sono meno allettanti ma pagano di più, quelle cifre le può raggiungere. E qui torna in gioco la domanda di Pogba. Pogba vuole ancora giocare a calcio o vuole i benefit che derivano dal calcio? Questa secondo me è la domanda più interessante da fare. Ma ripeto, ne ho già discusso ieri. Io non credo che Pogba possa accettare uno o due milioni all'anno. Ma questa è la mia lettura. Mi avevo dato per scontato che l'ingaggio di Pogba non sarebbe stato di uno o due milioni. Perché secondo me Pogba che dice sì, sono disposto a rinunciare a dei soldi per la Juve, tradotto, se oggi guadagno, non mi ricordo neanche più cosa guadagna, 8, 7,5. Passiamo a 4. Io sono contento. Ma 4 milioni è un ingaggio pesante per la Juventus di oggi. È un ingaggio da top player, da un giocatore che deve davvero fare la differenza. E se dal punto di vista tecnico, ne abbiamo parlato prima, Pogba la differenza la fa. Dal punto di vista fisico è una grande incognita, al di là di quella che è stata la disavventura legata appunto alla squalifica. non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di altre cose. E qui entra in gioco il terzo punto. Persone che mi hanno detto, però Pogba a fargli fare gli ultimi 20 minuti lo tengo tranquillamente. 20 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 10 minuti, il minuto di recupero, la partita del turnover soltanto in Coppa Italia. Quello che volete. Però anche in questo caso vi rispondo con una domanda. Secondo voi Paul Pogba accetta di essere un giocatore soltanto di contorno? O per come è fatto lui? Per anche rispetto della sua carriera? Nella sua testa ha in mente di essere più importante, più impattante, di essere un giocatore che deve arrivare a conquistarsi la titolarità? Perché torniamo al punto principale? Tecnicamente Pogba è uno dei giocatori più forti della serie. Pogba accetterebbe di essere soltanto una riserva? Il giocatore che inserisce solo nel turnover? Il giocatore che inserisce soltanto negli ultimi 15 minuti di gioco? Secondo me no. È per questo che vi dico, se metto insieme tutti i punti, tutti gli elementi, la riflessione, Pogba, se sta bene è uno dei più forti. Se guadagna un milione o due me lo tengo e gli faccio fare solo gli ultimi 15 minuti. Io credo che sia quasi un insulto alla carriera di Pogba. Perché Pogba non è un giocatore da uno o due milioni. Non è un giocatore da ultimi 15 minuti. È un giocatore forte. È un giocatore forte che in questo momento ha perso di vista il focus principale del calcio. Perché da troppe stagioni non fa il calciatore. È tre anni che non gioca Pogba. Tiago Motta l'ha detto chiaramente. E infatti Tiago Motta aveva già parlato di Pogba al passato dicendo è stato un grande calciatore. Quella non era una coincidenza. Non era un errore di Tiago Motta. È stata una frase probabilmente predefinita e costruita in precedenza. Perché Paul non è uno qualunque. Pogba è un patrimonio assoluto del calcio. Qualcuno mi ha anche detto in maniera molto intelligente. Sì però noi Pirlo lo andiamo a prendere a 30 anni e tutti lo davano per finito. E cosa ha fatto Pirlo con la Juve? Assolutamente sì. Però Pirlo veniva da un anno di stop. Uno solo col Milan. Dove faceva comunque la vita dell'atleta. Dove era molto focalizzato sul campo. E dove era sempre stato davvero un leader in continuità dentro il Milan. Pogba è da tanto tempo che invece non fa il calciatore. Come dicevo prima questi ultimi due anni alla Juve non li ha giocati. L'ultimo anno all'United non l'ha giocato. E anche nel Pogmentary. Non so se vi ricordate il documentario. Pogba era molto provato da questa situazione che aveva vissuto a Manchester. Ecco noi immaginiamoci quel Pogba che aveva tanti casini fuori dal campo eccetera. Che aggiunge poi il suo ritorno alla Juve. La sua incapacità di dare continuità di rendimento alle prestazioni perché Pogba cosa avrà fatto? Dieci presenze da quando è tornato alla Juve in due anni. Tra infortuni e squalifiche. Dieci presenze. Tutti quelli che sono stati il caos extracampo dal marabutto al rapimento del fratello, alla polemica legata al mondiale, la convocazione, il ginocchio e non ginocchio, il doping. Cioè Pogba oggi purtroppo, ma davvero lo torno a dire, lo dico da fan, ha troppe cose fuori dal campo. Ha troppi pensieri fuori dal campo. E quando hai così tanti pensieri fuori dal campo, in campo, non riuscirai mai a dare il tuo 100%. Per questo vi dico. Uno, non credo che Pogba accette di fare gli ultimi 15-20 minuti a 2 milioni all'anno di tetto massimo. Ma questa è la mia opinione. Voi potreste dire, per me invece accetta, è la mia vale come la vostra e su questo non ci piove. Ma in seconda battuta vi dico che anche con delle condizioni vantaggiose, secondo me la più vantaggiosa sarebbe Pogba che dice va bene dammi 3 milioni e mezzo di euro all'anno. Pogba comunque pretenderebbe di essere un giocatore normale per la Juve, quindi di potersi conquistare il posto da titolare e rischierebbe, credo, sempre questa è la mia opinione, di andare a limitare il processo di crescita di alcuni calciatori che in questo momento stanno emergendo. Faccio un nome, Niccolò Fagioli. Faccio un altro nome, Cobb Maners che è stato un investimento, così come Douglas Lewis che è stato un investimento importante di questa dirigenza sportiva. Per questo allenatore, perché questo è un punto da non sottolutare mai quando si parla di comunque asset societari che non sono stati scelti sportivamente per questo nuovo progetto. Questa è una cosa che va assolutamente sottolineata. Ma banalmente anche Meccanier integrato in Rosa? O banalmente Locatelli? Perché ieri sera un sacco di commenti sono stati, beh allora tienti Locatelli. Ma ragazzi, ma fermiamoci un secondo, lo sport è anche meritocrazia. Nessuno qui a dire che Locatelli è più forte di Pogba, sarebbe raccontarsi una frottola, una bugia, una falsità. Ma se devo prendere in esame gli ultimi due anni di Locatelli, gli ultimi due anni di Pogba o gli ultimi tre anni di Locatelli, gli ultimi tre anni di Pogba, uno ha fatto la vita dell'atleta, l'altro ha fatto la vita della star. Per quanto Locatelli non venga da stagioni esaltanti, tant'è che ha perso la convocazione nazionale, tant'è che non è più uno degli uomini convocati da Spalletti. Quindi non stiamo parlando di un giocatore insostituibile. Però guardate lo spirito di abnegazione di Locatelli di inserirsi in questo nuovo contesto di Juve con questo nuovo allenatore. Mi sembra anche poi inopportuno e forse offensivo nei confronti di un giocatore come Locatelli che sicuramente non ha le qualità di Pogba e non le avrà mai e neanche ci andrà mai vicino e neanche mai farà una carriera come quella di Pogba dal punto di vista della potenzialità, mai. Però dal punto di vista di quello che sta dando come professionista, come sportivo e come uomo da Juventus, per me toccarlo è ingeneroso. Poi questa è la mia umile opinione, come sono state opinioni tutte quelle che vi ho raccontato da ieri sera ad oggi. Volevo rispondere ad alcuni ragazzi che mi avevano fatto delle considerazioni importanti e interessanti, perché ovviamente io ho un'opinione, voi avete la vostra. Se queste opinioni non combaciano ci sono dei punti che si possano discutere e questi secondo me erano i più interessanti. Non sono qui per voler cambiare l'idea di nessuno, ognuno è libero di avere la sua idea, tanto alla fine la decisione finale sarà della Juventus, di Tiago Motta, di Giuntoli, eccetera eccetera. Io credo che Pogba non sarà più un giocatore della Juventus, non scenderà mai più in campo con la maglia della Juventus, dovesse invece farlo sarà il suo primo supporter, ben consapevole del fatto che secondo me comunque sarà un errore. Ciao a tutti ragazzi e forza Juve!